Si sta facendo attendere ma è ormai dietro l'angolo. L'influenza 2014-2015, quest'anno ribattezzata americana o texana, perché proprio da lì arriva dove ci sono stati i primi focolai. Rispetto agli anni scorsi dovrebbe essere meno aggressiva ma intensa, sta ritardando la sua venuta in Italia, in particolare per via di fattori climatici. L'aumento dei casi atteso dopo Natale e rientro a scuola a gennaio sono infatti i bambini in genere quelli più colpiti nelle fasi iniziali di questa epidemia. Circa 4 milioni di italiani saranno colpiti dall'americana che porterà un tasso epidemico più intenso del previsto da gennaio in poi. In Italia l'allarme vaccino, poi rientrato, ha creato il panico, preoccupa però la possibilità di una ridotta efficacia della protezione delle vaccinazioni nei confronti di un ceppo virale che potrebbe provocare casi gravi di influenza in tutta Europa. Negli ultimi giorni ci sono stati invece nel nord dell'Italia casi di aviaria che hanno destato preoccupazione. L'infettivologo Giulio Tarro, ospite della nostra trasmissione Sanità senza frontiere, ci parla della nuova influenza, non creando particolari allarmismi tra la gente. Non si prevedono attualmente nel mombo, diciamo, focolai di nuove epidemie influenzali, quindi i vaccini che sono stati già preparati contro gli ultimi episodi epidemici, sono buoni anche per quest'anno, per cui già il vaccino viene consigliato alle categorie più deboli nei riguardi soprattutto poi delle infezioni opportuniste che seguono l'influenza. E quindi è importante che i bambini, gli anziani, i malattie a livello cardiovascolare, soprattutto la prato respiratore, che possono fare questo vaccino senza più quelle paure che sono state legate alla possibilità di associare alcuni episodi anche mortali a dei lotti vaccinali che però poi non è stato più dimostrato in laboratorio che potessero essere responsabili. Comunque non sarà un'influenza particolarmente aggressiva quella che arriverà, almeno non se ne sente parlare. Presumibilmente no, anche perché quella che cinque anni fa era aggressiva, per così dire, l'ultimo episodio influenzale, che ha visto la campagna al primo posto anche come ricoveri, però perché era il centro, per dire, non di attrazione, ma di concentrazione dei pazienti, per cui i dati erano di buona sanità, perché si faceva subito diagnosi eventualmente, le terapie conseguenziali e essere il primo in questo fatto era un primato di diagnosi, ma non perché ci fossero motivi particolari per ammalarsi e eventualmente pochi casi mortali.